Che bello essere il numero uno, che bello essere il migliore eh, colpata cifrato, il primo al mondo ad aver, che sia chiaro, il primo al mondo, il primo al mondo ad aver tirato giù sto tizio colpata cifrato, ce l'ho io Io ragazzi ero qua davanti, però a sto punto ragazzi andrei a indietreggiare e ammazzare la tizia la mano, andrei ad ammazzarmi la mano ragazzi prima E poi dovrei aver finito tutti i boss, così poi possiamo finire il gioco al cento, io vorrei chiedere la tua mano, eccola, l'hai ottenuta Mettimi l'anello ancestrale al dito e ammira come si domina un mondo, farò come Michela, porterò il mondo in un'epoca di gentilezza e amore fidatevi Sediamoci, porco di Inizio a spune già, regà non me lo ricordavo, non mi, non ricordavo che era già aperto Ieri ho fatto il 17.0 con Brenda D, poi mi sono svegliato E ora vai a farlo sul mondo reale, non quello dei sogni King Dov'è il mio VIP? Appena ammazzo questo do il VIP a tutta la chat Ok Ah no, da maltra Non mi ricordo Ok Il problema grosso con questo qui ragazzi era la cazzo di seconda fase che mi sembra Mi sembrava abbastanza tumorale, to be honest Oh no, no, ma cro Allora, non riesco ancora a capire, non riesco a concepire se devo giocare kaitandolo indietro e sparando la magia in avanti o se li devo andare sotto e stuprarlo completamente Questo è il mio dubbio al momento ragazzi, che non riesco ancora, non riesco a farmene una ragione, capito? L'unica cosa che so ragazzi è che andrà giù in pochi try Non penso di metterci più di... Allora, da sotto rischio forse ragazzi bisogna attaccare, forse ragazzi dobbiamo giocarlo dentro, dobbiamo entrare dentro, dobbiamo agire per vie più aggressive Ho visto degli affondi particolari ragazzi, forse addirittura il patacifrato potrebbe essere la via Forse il patacifrato effettivamente è quella spada Forse il patacifrato è effettivamente quell'arma finale Potremmo essere lì ragazzi Potrebbe essere quella la chiave Nono, 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 nono Che spiega Se ti curavi, non avevo cure Che venghi in Svizzera a prenderti a pugni Che cure avevo Ok Fammi curare un attimo che poi posso iniziare il fight Ok Ed io che stavo per gittare le 5 subs Alle 17 e 2 minuti terminerà il tempo Nel caso in cui Sailor Moon non è di suo gradimento opteremo per Mila, Ishiro o Amtano Niente se devo avere sta sfiga incredibile Dai che sfiga No sto impazzendo, fa cagare sto boss Puoi scendere per favore Sento già le 5 sub in tasca Che minion di boss Rovina dell'edita di Myr Ora io ritorno qui e vediamo che è successo Vediamo Va, non c'è più niente Ok E allora ragazzi Tecnicamente a me manca Giusto per capire Sto posto qui Se non sbaglio Ditemi se c'è un boss E questo posto qui Ditemi se c'è un boss E poi basta Ma è finito E c'è successo qualcosa C'è chiusa Esamina Porco dio Quando arriva al boss finale Possiamo rivedere la cosa Mamma mia Il pato ha cifrato Quanto è broken Ui Quanto Aspetta 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 Boom Let's go Oh mio adorato astro Chiammi il cazzo Ciao Ezio Ah no No CON LE MANI DEL SACO! AHAH! Glavacea di Ymir, bastone materno, cappello del prelato, veste del prelato, guanti del prelato, biancheria del prelato. BASTA! ENNESIMO BOSS MASSACRATO! Secondo voi c'è qualcosa qua giù, ragazzi? Adesso che ho ucciso tutti. Le stelle, c'è, non li vedo più. Bramo le stelle, dammi la luce. Eh, li dovevo dare l'occhio, quello che ho dato all'altro figlio di Troia. L'iride di Grazia, là, come si chiama? Quindi qua abbiamo fatto. Ora abbiamo questo posto qui e questo posto qua, se non sbaglio. Non si può andare avanti, vuol dire che si prosegue di qua. Aspetta, sono obbligato a scendere di qua? È lo stesso, no? È lo stesso. Oh, sono strabigo io! Oh, oh, sono strabigo io! Ragazzi, è disegnato per gli occhi a mandarla. Io, con tutto rispetto, ma, cioè, se per me è sotto... Se per me è dritto per dritto salto e poi la percezione cambia, non è colpa mia. Cioè, con tutto rispetto, ragazzi, a me dispiace, ma... Ma cerchiamo di attenerci alla precisione, per favore. Qua! Sublime. Posso andare da altre pa... Non ricordo questo luogo. Forse ci sono? Nooo! Ma chi mi mette quella crepa così? No, rega, no, 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 dai! Non c'è una grazia lì da qualche parte. Per quanto sia stato frustrante, ragazzi, non cambia, che siamo ritornati. Deve essere qui, ragazzi. Deve essere qui, deve essere qui. Signori, ammirate come l'acqua se ne va. Cinematica addirittura. Grazie, Vizzo, Pered, grazie, diciamo, Mattia, Sertu. Ciao, Matti, come stai? Tutto bene, carissimo? Re dei re. Il dio Mattia, Salmono, Mattia preferito. Il mio editor può esplodere. Ah, è tipo una diga, ho capito, dai, fuori dal cazzo. Ragazzi, è il pata cifrato, è incredibile. Cioè, abbiamo iniziato col pata cifrato, finiremo col pata... Non credo di arrivare a fare il colpo critico, onestamente. Non credo di arrivare a fare il colpo critico, onestamente. No credo di arrivare a fare il colpo critico, onestamente. Ok. 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 Cabe Siete fieri di me ragazzi per sto fight Ma quanto sono migliorato Ma quanto sono migliorato Ma scherzi What the fuck La porca puttana L'ho seccato Sono nel prime ragazzi Sono nel prime Bravo vecchio Sono nel prime Non ho preso unito tutte le pozioni Sono nel mio fottuto prime E' finito elder ring ragazzi E' finito elder ring Non c'è verso di perdere Quindi mini boss ucciso senza rischiare nulla Da là sono sceso Non sembra uno shortcut Sembra proprio una via Statua di marica Ponte Sembra la strada che mi conduce a un boss Potrei sbagliarmi però Penso ragazzi che sto veramente Andando lì vedo marica A braccia aperte Frammento di albero ombra Iride di grazia Da dare a quella tizia là dentro Un'altra grazia E item leggendario Con Non capisco se è un boss Quello ragazzi Ma ha tipo un contorno Più definito del resto Runa di marica Smettila di scendere Ti ricordo che se sei forte Sali Resili dorati della grazia Concessa dalla regina marica In persona agli eroi Della sua crociata Questa me la tengo Ragazzi vedo C'è quella cosa lì Base dell'albero ombra Provo ma No forse è solo È solo Robo a caso No è un boss Fa sanguinamento Cosa cazzo sto vedendo What the fuck Che cazzo è sto robo È l'albero finale Cosa Ok però gli ho levato Metà vita ragazzi Non credo sia così forte Non credo sia così forte Ragazzi se li ho levato Metà vita Rannandolo Fils ha ancora 8 pozioni È il dio di tutti Di tutti gli alberi Questo qui È l'albero ombra La base L'avatar È un avatar What Ho sprecato L'unica opzione Che avevo Vero Perché mi dava L'animazione Della nascita Quindi Cosa Ti aiuto a non fallire Mina 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 Daliero un altro che cade Non cade Curati Non sto capendo Molto bene Sto boss Ragazzi Non l'ho capito Non l'ho capito Non l'ho capito Veramente brutto Veramente brutto Ragazzi È vivo Veramente brutto È vivo È vivo vero Al conecto Non l'ho capito Non l'ho capito Non l'ho capito Veo Un'ho capito Il Vero Quaticol Scri Sì D Diventa un po' più resistente Forse ragazzi non era così brutto Forse non era così brutto ragazzi Forse non era così brutto Ok c'ha due fasi Non pensavo avesse Beh in effetti li faceva un po' troppo DPS Però mi chiedo Dato che lui è un albero Tecnicamente sulla carta Non dovrei fargli il triplo del DPS Con un'arma di fuoco Come la lama Braccazzo Blasfema Dai No ti prego No non fammi ne un altro E' morto ragazzi ce l'ho fatta Ai orta no da Muori E' incredibile E' sempre così E' incredibile Che cazzo di fastidio Sto gioco è scriptato di merda E' baggato Ha le texture baggate ragazzi E' veramente di un trigger Che raramente ho vissuto sulla mia pelle Ma raramente Texture ultra baggate Delle spell che mi tira Ultra baggate Guarda che roba Non mi hai mai preso Ok Buono Non buono Non buono Dai Davvero non l'ho cretata Ovviamente mi tira l'attacco al contrario Senti Fammi l'attacco i balti Tanto è un clown questo No no Morto Il re Il dio Non posso fallire con tutte queste pozioni E' mio E' finita ragazzi E' over Ah dai Oh Quando Devi La direzione Dove È il Quinto Torale Oh 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 MADONNA! Te sei forte Pippi Ale Il re Il dio La reggenda Crolla L'albero Dopo la del cazzo Let's go Questo è quello che succede Porco di No dai Sì Sì Basta Dai Porco Porco Guarda che se mi spona ancora Runa maggiore rinunciata da Michella Infrante e priva di gran parte del suo potere Consciuta la pena il potere Resiste dagli ammagliamenti Michella partì alla volta della torre ammantata D'ombra lasciando seguito alle spalle il suo corpo aureo La sua forza abbagliante E non ultimo il suo destino Tentare seppellire il peccato originale Per farse carico di ogni cosa E rinascere Dio Quindi voleva Michella Vuole Diventare un dio Incredibile magister La lore incredibile Il maestro riesce ad arrivare A questo concetto Ora andiamo a vedere le cazzo di armi Me le compro tutte ragazzi No forse non riesco Forse devo ammazzare un altro Ce l'ho Ce l'ho un altro boss ragazzi Che non mi devo livellare Non dovevo livellarmi C'è mica un altro boss ragazzi È che non voglio usare la runa di Marika La tengo lì Non penso la userò mai onestamente Allora Mesmer abbiamo Conceglia la fiamma di Mesmer Una sfera con cui colpire il nemico 60 in fede Anche questo scala fede Ed è di fuoco Fiamma di Mesmer Fede 60 Eh questa la raddoppiamo E la teniamo qua Ah no mi avete detto che si può raddoppiare anche al di là Intanto mi prendo l'arma E poi vedo per l'altra roba Bastone dal grande oltre Di E Tutte e due fede Fisico e magia Critico stregoneria fisico Dito Scrutatore Bastone dal grande oltre Vuol dire che bastone dal grande oltre Mi piace di più Perché c'è grande oltre Capito Scala di più in fede Quindi forse è più forte Bastone è cavato Dalle dita caudali di Metir Madre dita E dal microcosmo Tenuto sospello dalla croce che formano Catalizza l'ancet Il segno di incantesimo Insende la volontà superiore Si palesano dal microcosmo Alla madre Anche quando rimane solo La derelitta Ella continua ad attendere Con vita che un altro messaggio sarebbe giunta Nessuna abilità Questo armamento non possano abilità Salvamento che impugni Nell'altra mano Le possede di uno Sarà usata quella Evocano le farfalle Svolazzando armoniosamente Le farfalle si frantumano all'impatto Spargendo marcescienza E nascando una reazione a catena Le farfalle scarlate Versano le ali Della dea della marcescienza Rimaste orfene di una guida Sono stati accolti dalla Romina La scena del bocciolo Falcello del scarlato Mentre intorno a lei Le rovine della chiesa Bruciavano Romina Stringevano in silenzio Un bocciolo Quel fiore sarebbe diventato La sua lama Infonde farfalle di marcescienza Scarlate la lama del bocciolo Quindi si farà due ampiate Spazzate Sago di tolle di purificazione E' una derivante Da lavata dell'albero ombra Schiave i proiettili Bocciolo del girasole ombra Scala fede anche questo Sommitare la vostra manifestazione Di un girasole dell'albero ombra Sebbene sia un fiore Può essere brandito come arma Schiave la terra Il bocciolo del girasole ombra Generando un ordo avuto Che abbatte i nemici Oh i due Belle Questo d'assideramento Mamma mia che belle che sono le armi Che figata Allora mi prendo Elmo di Mesmer Ammi tutto di Mesmer intanto Corazza di Mesmer Guanti d'arme di Mesmer Scrinieri di Mesmer Dite che ci saranno i vestiti di Miche Ma se io entro Fermi Fermi Se io entro vestito da Radan Dite che Michella si sbaglia e mi scopa E divento il consorte di Michella Signori Signore e signori Signore e signori E' il momento di dirmelo Adesso Ho saltato un boss secondario Adesso mai più ragazzi Ora mai più ragazzi Adesso mai più E' la fine E' la fine questa qui ragazzi Non c'è un se Non c'è un ma Non c'è un'altra cosa Finiamo il gioco La mappa sopra No no ho fatto tutto qua ragazzi Ho fatto tutto L'unica roba che mi manca è la mappa Ma ho fatto tutto Probabilmente mi mancano i giganti Mi mancano quelli giganti di fuoco Che camminano Ma ne abbiamo fatto uno Avendo fatto uno Li ho fatti tutti Signori La fine